Quali sono le rilacce informatiche nell'era di cloud e social media e mobility? Vediamo sostanzialmente sempre più attacchi mirati contro le aziende con lo scopo di rubare informazioni confidenziali e aziendali e in più la seconda cosa molto preoccupante è la sorveglianza di massa che ormai sappiamo che viene effettuato dalle organizzazioni come per esempio NSA degli Stati Uniti e tutto questo mette a rischio poi sia la sicurezza aziendale che anche la nostra privacy che abbiamo diritto di avere sia come dipendenti che come persone private e forse. Noi in FQR pensiamo che questo non è una cosa da prendere leggermente ma che dobbiamo combattere poi per avere sia la sicurezza che privacy anche nel mondo informatico come lo abbiamo anche nella vita privata. Come risponde FQR alle nuove esigenze di protezione? Noi in FQR lavoriamo sostanzialmente in tre ambiti diversi. Il primo ambito è la protezione anti-malware e lì l'obiettivo di FQR è offrire ai propri clienti assolutamente la migliore soluzione al mondo. Oggi abbiamo tutte le soluzioni per coprire tutte le esigenze aziendali a partire dai PC, serve a costa elettronica, affinare ai device mobili. Secondo ambito è soluzioni cloud e lì l'obiettivo di FQR è offrire un posto assolutamente sicuro dove le aziende possono salvare tutti i propri documenti aziendali e senza dimenticare la possibilità di condividere i vari documenti dati aziendali all'interno dei gruppi di lavoro. Terzo ambito, privacy. Sappiamo quanto è facile intercettare tutto il traffico che viaggia attraverso le reti Wi-Fi e inoltre sappiamo che siamo costantemente monitorati mentre navigiamo in internet dai vari siti e la risposta di FQR in questo ambito si chiama FQR Freedom, è un prodotto che permette la protezione di tutto il traffico dati che viaggia attraverso le reti Wi-Fi e in più permette la navigazione in internet in un modo completamente anonimo. Qual è l'evoluzione dello scenario malware e qual è la strategia di FQR per il futuro? Noi ci aspettiamo che la situazione per quanto riguarda i rischi informatici diventerà sempre più complessa come abbiamo già visto negli ultimi 20 anni e noi comunque in FQR prendiamo l'impegno di continuare a sviluppare le migliori soluzioni di sicurezza nel mondo per questi tre ambiti menzionati prima protezione anti-manware, cloud e privacy e tutto questo arriva da un'azienda che già oltre 25 anni combatte per la sicurezza per i propri clienti. 01 ringraziamo FQR e FQR, grazie. Prego.